Sì, è rientrato Fornasieri, è rientrato Angileri, in linea di massima Peschietola è rientrato, in questo momento solo Cristallo è sulla via del recupero, però per domani non è ancora a disposizione, anche se ha ripreso ad allenarsi, quindi dalla settimana prossima. Poi grossi problemi da questo punto di vista non ne abbiamo, stiamo recuperando tutti. Ma sì, lo sappiamo, il periodo è questo, però c'è anche da prendere le cose positive, stanno arrivando, la società sta facendo degli sforzi per cercare di fornirmi una rosa che abbia più frecce per poter sfruttare al massimo le qualità dei ragazzi, quindi stanno arrivando persone anche con una ventata nuova probabilmente, forse c'è anche bisogno di qualche iniezione, proprio di spirito diverso e poi rimane il campo, per il resto chiacchiere ne possiamo far poche, da qui alla fine abbiamo tutte finali, quindi domani è la prima di una serie di finali, sicuramente senza perderci troppo in discorsi tecnico-tattici e dobbiamo tirar fuori qualcosa di diverso a livello caratteriale, non ho parlato con i ragazzi, perché queste due partite sono arrivate due sconfitte che devono far rabbia, perché sono due sconfitte evitabilissime, sono due sconfitte in cui bastava poco, non dico per vincere ma almeno per non perderle, in questo momento ci stiamo facendo un po' del male dai soli, ho visto poi i dati della gara, sinceramente il primo tempo abbiamo preso gol senza subire praticamente nessun altro tiro in porta, eravamo in piena gestione della gara, avevamo creato anche dei presupposti, ma soprattutto non stavamo rischiando niente, però questa è una squadra che i dati dicono che in queste due ultime due partite, almeno da quando ci sono io, ha subito quattro gol, subendo come XG, come XG di gol contro, molto poco, ed è un problema grosso, perché se tu nelle partite subisci poco per poter poi giustificare l'aver subito due gol, ma nonostante questo li prendi uguale, evidentemente c'è un problema, perché poi nella complessività della gara non siamo una squadra che concede tanto, però sono due gare che prendiamo due gol, e quindi vuol dire che ci vuole un pizzico di attenzione in più, ci vuole quel pizzico di determinazione, perché domenica, ripeto, anche domenica, si è persa una partita in modo, secondo me, abbastanza clamoroso per quello che dicono i dati, perché l'hai gestita, hai fatto oltre il 60% di possesso, hai avuto anche tempi, il primo tempo secondo me facendo bene, mi è dispiaciuto il secondo tempo, dove non abbiamo messo poi, anche dopo il gol subito, l'abbiamo ripresa, lì anziché avere un'inerzia positiva, poi abbiamo preso questo gol da una punizione anche strana, e poi non abbiamo avuto la forza di riandare di là, e questo aspetto caratteriale, e in quel momento non conta solo l'aspetto tecnico-tattico, ripeto, in quel momento ci vuole una voglia di volerla riprendere, anche facendo un calcio più essenziale, il punto poi non è solo come si gioca, è proprio voler metterci qualcosa per raggiungere il risultato, e noi da questo punto di vista dobbiamo tirare fuori qualcosa di diverso e dare delle risposte, non c'è dubbio. Vediamo, vediamo, hanno lavorato giusto questi due giorni, e sono arrivati, la cosa positiva è che sono arrivati con grande spirito, e in questo momento è ovvio che per noi, noi con la società abbiamo tracciato una linea, sappiamo che la situazione è complessa, e vogliamo puntare forte su ragazzi che vengono qui riconoscendo la situazione, ma che vogliono mettersi in gioco, che vogliono metterci l'anima per tirarci fuori, perché noi da questa situazione non usciamo solo con giocatori pienamente convinti di dover metterci l'anima, di poter dare tutto per raggiungere un obiettivo, e l'aspetto mentale è fondamentale in questo momento, la linea della società è stata chiara, io col direttore ne ho parlato dall'inizio, vogliamo solo giocatori che stanno qui nella loro volontà e con grande spirito, con lo spirito di chi vuole dare tutto per questa maglia e per questa comunità, è l'unico modo secondo noi per tirarci fuori da queste sabbie mobili, da questa situazione, quindi questa è la linea, poi per il resto del mercato ne parlerete col direttore, a me riguarda poco, ripeto, mi interessa far passare il messaggio che chi vuole stare a Monopoli ci deve stare perché deve credere fortemente in qualcosa, in un obiettivo, in qualcosa da raggiungere, punto. Questa è la cosa più importante in questo momento, perché solo così possiamo pensare di creare un gruppo granitico che supera tutte le difficoltà che fanno parte del calcio come della vita e che vuole ogni domenica e ogni giorno lavorare per raggiungere ogni domenica un qualcosa. Ma in potenza è una squadra che in questo momento è una sedia positiva, sicuramente hanno un buono spirito, hanno trovato un buon equilibrio, è una squadra che era partita con ambizioni ben diverse, anche se ora piano piano stanno rientrando, hanno avuto questo cambio di allenatore. Io nelle ultime partite che ho visto gli riconosco una grande qualità, quella di gestire le partite con grande serenità, hanno un equilibrio nelle due fasi, riescono comunque a difendere magari anche abbassandosi un po' di più, riempiendo, stando un po' di più nella loro metà campo, ma sempre molto organizzati, stanno subendo pochissimo perché sono oltre 400 minuti che non prendono gol, quindi vuol dire che questo modo di difendere a loro gli sta dando tanto, fanno grande densità e lavorano tutti sotto linea palla. Quindi è una squadra che poi ha le qualità per far male, sta riuscendo a trovare sempre la soluzione per vincere la partita, Francavilla ha vinto su una pallina attiva, stanno sfruttando bene secondo me le loro caratteristiche, le loro qualità. Quindi è una squadra in questo momento esperta, matura, sarà una partita tosta per noi, ma lo sappiamo, basta leggere i nomi dei calciatori del Potenza. Quindi ci aspettano un compito arduo, ma come lo saranno tutti? Però ancora di più questo deve essere uno stimolo per tirare fuori da parte nostra una grossa prestazione. Sì, è ovvio che abbiamo perso un giocatore, l'ho detto dal primo momento, che è un giocatore che ha determinato tanto, che qui ha fatto tanto bene, però lui ha fatto la sua scelta e quindi noi in questo momento ci siamo mossi per mettere davanti gente che abbia... Abbiamo preso le persone che ci sono sembrate che volessero più di tutte venire a Monopoli, vi dico la verità, però stiamo puntando tanto sulla motivazione. Quindi sia Tomasini sia Sosa davanti sono giocatori che fanno oltre alle qualità in zona gol e sono giocatori che fanno anche dello spirito una delle loro caratteristiche. Questo ci piace molto perché, come ho detto prima, da qui fino alla fine del campionato sicuramente lavoreremo sul campo, sicuramente cercheremo di proporre, di portare avanti delle idee, però alla base ci vuole lo spirito. A base di una squadra che sta invischiata nella lotta a salvezza ci vuole grande spirito, grande voglia di sacrificarsi, grande voglia di essere squadra in tutte le sfaccettature. Da questo punto di vista i ragazzi che sono arrivati, anche i giovani che sono arrivati, ci stanno dando. Quindi quella è la strada. Ci aspettiamo tanto da loro. Vassal lo posso dire solo che fino ad oggi si è sempre allenato con la squadra e quindi è stato sempre all'interno. Ora ho letto anche io questa notizia. Come ho detto, di mercato ne parlerete poi con il direttore o con la società che sono le persone più indicate. Rimane quello che ho detto prima. Sin dal primo giorno al direttore gli ho chiesto, eravamo d'accordo su una linea, di tenere solo calciatori che sposino appieno il progetto Monopoli. Se Vassallo dovesse aver voglia di cambiare aria, di sposare un altro progetto, lo ascolteremo. Ad oggi, ripeto, si è allenato con la squadra, è un giocatore per noi importante. A meno che non ci siano comunicazioni diverse, ad oggi farà parte sicuramente dei convocati per domani. Vediamo, c'è Vitale che è un giocatore che domenica scorsa faceva la mezzana in fase difensiva, l'abbiamo sfruttato molto nell'inserimento, anzi mi è dispiaciuto perché ha avuto 4-5 palloni tra il primo e il secondo tempo dove poteva arrivare cercando un tempo migliore sulla palla e poteva determinare di più. Però il ragazzo ha avuto un impatto positivo, secondo me, proprio all'interno sia nello spogliatoio, negli allenamenti che è in gara, è un giocatore giovane però che è uno di quelli che ha tanta voglia e noi a quella voglia ci dobbiamo, secondo me, rivolgere per il resto del finale del nostro campionato. Avere quei giocatori con quello spirito lì è fondamentale. Poi è normale, fanno degli errori e qui ci lavoreremo per questo. Però se alla base c'è quello spirito, secondo me, alla fine i risultati li riesci a raggiungere. Ma sì, l'avevamo detto dall'inizio, più di qualcuno degli addetti ai lavori aveva detto che quest'anno forse mancava la squadra top al di sopra delle altre, però il livello medio delle squadre era abbastanza alto e secondo me si sta riscontrando quello. Poi è normale che all'interno di un percorso, di un campionato, oltre alle qualità, piano piano, quando le cose non girano entra anche l'aspetto psicologico, secondo me, in alcune squadre. E secondo me noi siamo in quella situazione lì, cioè noi proprio a livello psicologico, secondo me questa squadra ha bisogno di uno switch per tirare fuori quelle che sono le proprie qualità. E quindi oggi dobbiamo andare alla ricerca di un risultato positivo a tutti i costi che ci dia una spinta.